La solidarietà fa bene alla salute al chiostro di San Domenico alla Mezzia, l'ambulatorio solidale parla di un anno di attività, di un anno di prestazioni garantite alle persone meno abbienti a chi non si può curare né nelle strutture private né tantomeno nell'ambito del sistema sanitario nazionale quindi neanche nel sistema pubblico. Il dottor Vicenzo Cimellaro è il direttore sanitario dell'ambulatorio solidale. Che bilancio facciamo per questo anno di attività? Il bilancio è purtroppo direi ampiamente positivo perché abbiamo effettuato in un anno di attività che non è poi un anno di calendario pieno visto che l'ambulatorio è aperto quattro giorni alla settimana e il mese di agosto è stato chiuso abbiamo effettuato 2251 visite come riferirò fra un po' nella nostra serata. Questa sera che è soprattutto dedicata però più che a dare i numeri a manifestare la nostra gratitudine a tutte le persone che ci hanno beneficiato, che ci hanno fornito i mezzi, gli strumenti per poter dare quest'opera di solidarietà. Chi si rivolge all'ambulatorio solidale? Sono più donne, più uomini, più giovani, più anziani? Allora il sesso femminile prevale anche tra i nostri pazienti in un rapporto di 2 a 1 più o meno e poi l'età è quella dell'adulta andando verso l'anzianità, soprattutto rappresentata la fascia tra i 50, i 60 e i 70 anni. Però tutte le fasce di età sono rappresentate, noi abbiamo anche un ambulatorio di pediatria, quindi voglio dire tutte le fasce di età ma soprattutto naturalmente quelle fasce di popolazione che per ragioni o economiche o di disagio anche sociale, non necessariamente economico, hanno difficoltà come diceva lei ad afferire al Servizio Sanitario Nazionale che è inutile tornare su questo tema, purtroppo sappiamo che ha delle difficoltà in molti campi, in molti settori. E l'ambulatorio solidale si pone come supporto al sistema, naturalmente non è in contrasto, questo lo ribadiamo, ma è un supporto. Assolutamente sì, noi non vogliamo sostituirci, anzi tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri e anche il personale non medico che presta la sua opera, viene dalle strutture pubbliche. Siamo tutti convinti sostenitori del Servizio Sanitario pubblico, però purtroppo la realtà oggettiva è quella che è e quindi abbiamo pensato di realizzare questo sogno che era in ognuno di noi di dare una mano, di dare un supporto appunto al Servizio Sanitario. Buonasera a tutti innanzitutto, ben trovati, parliamo di ambulatorio solidale prima gli ultimi, gli ultimi che devono avere dignità, devono essere trattati al pari di chi può permettersi le cure, sia nel settore privato che nel settore pubblico. L'ambulatorio solidale non si frappone e non contrasta né il pubblico né il privato, l'ambulatorio, una struttura che è diventata in poco tempo una struttura d'eccellenza, si pone come supporto e tende la mano a chi veramente non può permettersi di curarsi. Vogliamo, come dice il nostro nome, che siano prima gli ultimi, qui e adesso, poi nell'alti là si vedrà, ma qui e adesso devono essere trattati uguali con gli altri perché la nostra Costituzione questo ci impone, noi siamo e dobbiamo essere uguali tutti quanti ed ugualmente dobbiamo essere trattati. L'Avvocato Nicolino Panindigrano è il Presidente dell'ambulatorio solidale prima gli ultimi, un nome che è già tutto un programma. Questi ultimi che stanno diventando primi per molti partner, cioè molte realtà della società locale, sta attenzionando questa struttura che come abbiamo detto è di supporto al sistema sanitario nazionale, non di contrasto ma di supporto e che sta offrendo un servizio straordinariamente importante. Sì, allora, io ho sentito Enzo Cimellaro che vi diceva che è un sogno di ognuno di noi che si è messo dentro questa avventura. L'abbiamo realizzata nonostante parecchie resistenze nella società nell'ambiente istituzionale. Adesso, da quando è operativa, questa sta diventando un po' un punto di diamante della società solidale lametina e non solo, perché stiamo facendo un po' scuola. Abbiamo avuto da Luzzi, da Corigliano Rossano, da Tropea delle richieste di collaborazione per dare una mano a far crescere anche lì altre associazioni come la nostra che diano una mano nell'ambito della sanità solidale. Quindi siete diventati un esempio da emulare? Sì, insomma siamo diventati un oggetto che chiunque va sui social media e anche su internet in generale, su Facebook eccetera, ci trova e si incuriosisce e capisce quello che facciamo. Proprio oggi ho parlato con un agente assicuratrice di Lamezia che proprio per questo ha visto questa cosa e ha detto io devo fare qualcosa e quindi indipendentemente da come vanno i rapporti tra noi e loro, se l'assicurazione che noi dobbiamo fare obbligatoriamente la faremo con loro o no, ha detto io sono comunque dalla vostra parte perché state facendo una cosa che necessitava e che dà una mano a chi non ce la fa. E quindi da questo punto di vista ha capito il messaggio che noi vogliamo dare questa sera. Noi abbiamo l'ambulatorio adesso attrezzato a livelli buoni diciamo, con strumentazione all'avanguardia, comunque che ci mettono al pari con i privati, con il pubblico e noi l'abbiamo fatto questo, ci abbiamo messo molto impegno a farlo perché per noi gli ultimi devono essere uguali ai primi qui ed ora, subito, poi saranno primi nell'aldilà, ma noi li vogliamo uguali qui come dice la nostra bellissima Costituzione. Una Costituzione che ci viene invidiata in tutto il mondo e che qui un po' è sotto attacco, qui da noi, guarda caso, i regimi, gli stati che escono fuori da regimi autoritari, la prima Costituzione che prendono a modello per poter fare le loro Costituzioni è quella italiana. Nella nostra Costituzione è garantito il diritto alla salute ed è garantita l'assistenza a tutti ma soprattutto a chi non ce la fa. Avete ricevuto tante donazioni da tanti benefattori ma c'è anche l'attenzione della regione, siete riusciti a farvi approvare un progetto, il progetto Missione Sanità di cui è responsabile la dottoressa Graziella Catozza che vi consente di avere risorse importanti proprio per implementare la strumentazione. Noi abbiamo avuto una solidarietà inaspettata sinceramente, soprattutto di grosse aziende locali, non solo di Lamezia ma anche di Pizzo. Noi questa sera vorremmo dare un attestato a loro ma vorremmo far capire che, come dice il titolo del nostro convegno, la solidarietà fa bene alla salute sia di chi riceve solidarietà ma sia di chi la fa perché rincuora lo spirito e si sa che la salute dipende molto dall'umore e dallo spirito di ognuno di noi. Noi poi ci siamo rivolti anche ai finanziamenti pubblici. La regione in questo caso ci ha dato un ottimo rifinanziamento grazie alle capacità della dottoressa Catozza e abbiamo speso queste somme prevalentemente non solo ma per comprare l'attrezzatura che era un po' carente perché un po' datata diciamo dell'oculistica e che adesso invece si è posta alla pari, come dicevo prima, con i privati e con gli enti pubblici. Siamo soddisfatti di avere soltanto in un anno attrezzato l'ambulatorio con i mezzi che non speravamo davvero di poter ricevere e con i finanziamenti e con le donazioni che non speravamo davvero di poter ricevere e con strumentazione che davvero non diciamo sono, non dico invidiabili, ma comunque alla pari con quello che è il nostro obiettivo, fare dei tra virgolette gli ultimi soggetti che siano trattati come i primi della classe. Con pari dignità degli altri. Con pari dignità. Il dottor Santolio, senologo, partecipa all'incontro di oggi sul primo anno di attività dell'ambulatorio solidale, primo anno diciamo così vissuto in maniera intensa, in maniera piena e il dottor Santolio tratterà un argomento di grandissima attualità, il tumore al seno che è una patologia frequentissima purtroppo per le donne. Sì, è la patologia più frequente dal punto di vista neoplastico per le donne. Io sono patologo e mi occupo in particolare della diagnostica anatomopatologica della mammella e della caratterizzazione biologica delle lesioni asportate in maniera che diamo agli oncologi tutte le informazioni che servono per le terapie e alla donna diamo così la possibilità di essere curata e di essere guarita secondo le nuove conoscenze e oggi in mano alla medicina. Perché mentre un tempo era una malattia ineluttabilmente fatale, oggi invece la maggior parte delle donne, almeno l'80%, se fanno la prevenzione possono essere guarite. E anche quelle malattie che un tempo, le cosiddette triplo negativo, che un tempo avevano una sopravvivenza dal momento della diagnosi molto breve con le terapie moderne praticate dagli oncologi, dai radioterapisti, dai chirurghi, dal team di senologia perché non c'è un senologo nella realtà. C'è la breast unity, c'è la possibilità di prendere in carico la donna, in Calabria oggi ci sono le breast unity, prendono in carico la donna fin dal momento della diagnosi, l'accompagnano per tutto il tempo della terapia in maniera da ricevere, in maniera uniforme e avanzata, moderna, la terapia utile per affrontare e guarire da questa malattia anche dal punto di vista psicologico. Ci sono gli psicologi che la prendono in carico, quindi non solo il radiologo, l'anatomopatologo, il chirurgo, l'oncologo, ma anche, eventualmente, anche gli psicologi per supportarle dal punto di vista psicologico. Le breast unity sono delle equip di professionisti altamente specializzati, proprio che appunto prendono in carico la paziente e la seguono in ogni aspetto della malattia. Lei parlava di prevenzione, su questo io vorrei soffermarmi, perché molte donne ancora hanno paura di andarsi a controllare e mettono la testa sotto la sabbia come gli struzzi, proprio perché hanno timore di avere poi qualche risposta nefasta o funesta. Invece la paura la dobbiamo mettere da parte, perché prima si arriva e prima si guarisce. Infatti, all'ambulatore solidale, dove non abbiamo strumenti diagnostici di radiologia, quindi ecografie, mammografie, risonanze, il mio compito è quello di sensibilizzare le donne. Io mi occupo soprattutto di educarle. Quando vengono da me, la prima cosa che faccio è spiegare il problema e spiegare loro come fare l'autoesame, ma un autoesame spiegato in che cosa consiste. Consiste nell'insegnare alla donna come osservare il proprio seno, come conoscerlo palpatoriamente, perché spesso, come ha detto lei, hanno paura a eretrosia, a toccarsi, ci sono donne che proprio non si toccano. Invece no, è necessario conoscere il proprio seno, come siamo fatti, e sapere che questo seno subisce delle variazioni cicliche, mensili, durante la fase fertile, mentre con la menopausa, diciamo, la mammella poi si stabilizza, bisogna insegnare alle donne che devono fare ogni mese il controllo del seno, da quella in età fertile, intorno al decimo giorno, e invece in menopausa, il primo giorno del mese, la prima domenica del mese, un giorno scelto al loro piacimento. Purché però imparino a conoscere la mammella, per cui io, oltre a fare la visita e a spiegare, prima le faccio toccare davanti a me, in maniera che loro ogni cosa che sentono mi chiedono, dottore, cos'è questo? Io spiego questo, stai tranquilla. Così facendo abbiamo anche scoperto dei casi in maniera precoce, e sono stati già avviati ai centri di sonologia, sono già tornati a casa, abbiamo avuto due casi positivi, abbiamo fatto nel primo anno 149 visite, e abbiamo trovato casi assolutamente tranquilli, casi di neoplasie benigne senza problemi, e casi due che sono stati avviati ai centri specialistici, dove sono state trattate e curate, con successo.